we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuderone e ragazzi oggi voglio parlarvi di alcune novità interessantissime riguardanti i prossimi giorni di fortnite le modifiche alla mappa continuano ad essere scoperte e se anche l'attenzione di tutti è portata sulla modalità end game non dobbiamo dimenticarci che comunque c'è tutto il discorso delle rune e del vulcano che ci porteranno alla season numero 9 prevista tra una manciata di giorni nel video di oggi ragazzi però vi parlerò di un importante comunicato rilasciato nella giornata di ieri dal team di fortnite un update generale cercherò di darvi i punti salienti sull'aggiornamento nelle modalità competitive insomma l'assorbimento quando si killa la gente le modifiche alla visuale insomma tante cose molto molto interessanti per i giocatori ma scoperto anche il set numero 2 di marvel ragazzi dopo la vedova nera ne è stato trovato un altro ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere non voglio dare giudizio ancora e modifiche iniziali al ghiacciaio come già vi avevo anticipato all'intro del video le modifiche strutturali alla mappa si ripercuoteranno molto probabilmente anche sul ghiacciaio di picco polare però prima voglio ringraziare tutti voi che utilizzate il codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è la domandina la domandina ve la devo fare ragazzi sapete che mi piace leggere i vostri commenti proprio qui sotto ed è una domanda che sono proprio curioso delle vostre risposte ragazzi ma tu quale fazione preferisci cioè preferisci giocare nella modalità endgame come i supereroi o come l'esercito di thanos allora allora io ho iniziato che mi piaceva di brutto giocare coi supereroi bellissimo le armi super fighe dei supereroi però però apprezzo di più giocando nell'esercito di thanos mi piace di più non so perché ma ma mi piace oltre qui quando divento thanos anche anche quando utilizzo i suoi scagnozzi ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance si va si va si va e si va a vedere direttamente nei codici sorgenti di gioco questa immagine l'avete riconosciuta tutti sicuramente è un'immagine molto comune una grande crepa un'incrinatura che ragazzi è da rapportare come vi anticipavo al nostro ghiacciaio guardate un po sempre in game è stato trovato è stata trovata la texture quindi l'immagine ancora non presente per quanto mi riguarda ma non ne sarei così sicuro potrebbe essere stata aggiunta in queste ultime ore dove si vede chiaramente che la parte ghiacciata è fortemente incrinata e questo ci lascia preannunciare una probabile distruzione con l'arrivo della season numero 9 abbiamo anche un'immagine però molto molto più chiara questo è il retro del castello di picco polare e come vedete proprio sopra all'apertura della porta che dalle segrete tutta la parete di ghiaccio ha una fortissima incrinatura insomma la texture che vi ho fatto vedere prima eccola qua rapportata sull'immagine in game questo potrebbe davvero voler dire che crollerà tutta questa parte di ghiaccio scoprendo finalmente il castello al 100% e quindi modificandone sicuramente determinati aspetti del gameplay ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di una delle skin presenti già dall'update 8.40 ma ancora non rilasciate la skin gemini ragazzi gemini è praticamente vuol dire gemelli ok e come sappiamo è un coniglio spaziale ragazzi non è un coniglio robotico è un coniglio che viene dallo spazio non era ancora stata inserita ufficialmente non è ancora stata inserita ufficialmente in game la skin perché in questa patch la 8.50 quella che abbiamo scaricato pochi giorni fa è stato inserito invece il piccone inerente la skin come avete visto sia prima che adesso ce ne sono due in realtà è lo stesso ma con uno stile personalizzato vi ricordo ragazzi che chi acquisterà la skin che deve essere penso è epica credo che sarà ragazzi penso che sia epica avrà la possibilità di sbloccarne le sfide e le sfide ragazzi permetteranno tre sfide sono permetteranno appunto di sbloccare lo stile personalizzato rosso quindi in poche parole la controparte cattiva della skin stessa ma andiamo avanti ragazzi ed ecco un'altra cosa super interessante con tanto di la misera già passati avanti con tanto di video ragazzi la modalità and game le sfide della modalità and game ragazzi queste sono praticamente tutte noi le conosciamo fino alla numero 3 ma andando avanti quindi più tardi nella giornata di oggi dovremo fare mille danni con il martello di thor dovremmo fare 100 danni mentre utilizziamo il jetpack dei kitori e poi dobbiamo eliminare cinque avversari uno in ogni partita quindi dobbiamo fare cinque partite con almeno un'eliminazione vi ricordo però ragazzi che al termine di tutte queste sfide di della modalità and game ci verrà regalato come vi avevo già fatto vedere pochi secondi fa il deltaplano jet ve lo faccio vedere però ragazzi in game molto velocemente eccolo qua liccato pesantemente ragazzi il nuovo deltaplano davvero molto carino comunque è regalato ed è sicuramente un bellissimo ricordo per tutti che nei prossimi nei prossimi mesi dove giocheremo a fortnite sicuramente ci farà riportare alla memoria questi giorni di della modalità and game e della seconda collaborazione ufficiale di epic games con marvel ma andiamo avanti ragazzi ed eccola qua finalmente liccata pesantemente scoperta dite quello che volete questa ragazzi è la skin star lord chi è star lord e qua lo xuder ragazzi e qua lo xuder si è informato lo star lord è il leader dei guardiani della galassia basta non so più altro come se parliamo ovviamente sempre del film avengers quindi ci sta un botto che è stato trovato se devo essere sincero questa immagine bello ma non mi fa impazzire quindi vorrei vederlo poi davvero in 3d in game questo questo ragazzi dovrebbe essere il secondo set vi dico dovrebbe ma in realtà sarà perché queste sono le queste sono i codici relativi all'arrivo della skin quindi guardian of the galaxy sarà la descrizione della skin e andando avanti si vede proprio come è broken light credo che sia la descrizione del piccone probabilmente ragazzi comunque come leggete invece di la interstellar che sarebbe lo star lord dovrebbe arrivare tra pochissimo forse a dire adesso non mi dite che oggi è nello shop perché porca miseria mi tiro se no la mazzata mi tiro ma andiamo avanti e parliamo dell'ultimo argomento ustrega abbiamo pochissimo tempo vi invito ad andare comunque se volete leggerlo nella pagina di epic games sezione competitiva aggiornamenti ragazzi nelle competizioni hanno lasciato hanno messo che loro dicono le competizioni di fortnite ruotano attorno ad un equilibrio delicato per offrire ovviamente un'esperienza ottima a tutti quelli che le vogliono fare iniziamo con le modifiche apportate i materiali di costruzione e assorbimento praticamente lo stile di gioco che domina nelle competizioni è molto diverso lo si sa all'inizio non si fa nulla ma si finisce in endgame in tantissimi quindi hanno introdotto le modifiche alla modalità base quando le hanno introdotte erano tutti stracontenti ma si sono accorti che in realtà avvantaggiavano solamente i top player quindi ragazzi hanno deciso di lasciare con il tempo il giocatore ha iniziato a lasciare la modalità che trovavano troppo competitiva per essere ovviamente godibili alla luce di queste tendenze di altri feedback simili abbiamo rimosso la meccanica di assorbimento e il cambio di materiali nella modalità base e tra l'altro modifiche anche per le risoluzioni per chi utilizza il 4 terzi quindi gli schermi un po più piegati hanno semplicemente modificato il campo visivo portato ad 80 in modo che tutti i giocatori possano avere un range simile di visione e quindi non avvantaggiare nessuno utilizzando le strecciate tutte le descrizioni sono nella modalità competitiva nella pagina di ap games andate ovviamente a vederle ragazzi perché merita di essere letto io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xiu derone noi ci vediamo alle otto e mezza in live ciao ciao